e allora cerco raffreddore e tosse bambina canina la sua è una tosse canina no no non canina bambina è mia figlia che sta male sia il raffreddore il mal di gola la tosse canina sa che vuol dire che da una settimana non mangia e da una settimana a casa mia non si chiude occhio ah mi scusi avevo capito canina oh guardi ho trovato un forum di genitori sui rimedi della nonna molto interessante tocca a lei ah grazie buongiorno buongiorno guardi ho mia figlia a letto fino a ieri aveva la febbre poi ha sfebbrato però è molto debole perché è una settimana che va avanti solo al latte caldo certo quindi non so magari si può darle degli integratori e delle vitamine sugli anticorpi e del magnesio per darle un po' di energia certo però provi anche con del brodo di pollo magari dei frullati sa la frutta e il latte aiutano si lei dice così perché non conosce mia figlia è un tipetto il latte se è caldo è troppo caldo se è freddo è troppo freddo la frutta solo in succo è solo di quella marca lì che vendono in quel posto lì guardi una fatica invece se lei mi dà una fialetta di qualcosa io magari non so gliela sciolgo in un succo ed è fatta ah poi mi dia per favore anche dello sciroppo per la tosse canina grazie così lo prendo anch'io e della valeriana così proviamo a dormire un momento allora ecco le vitamine lo sciroppo e la valeriana per lei grazie allora di vitamine me ne dà due confezioni fa sempre comodo averle poi viene mia suocera spesso e anche di valeriana sì poi pensavo per la tosse non sarebbe meglio un antibiotico sì mi dia un antibiotico generico per la tosse grazie no guardi per l'antibiotico ho bisogno della prescrizione del medico domani gliela porto sì guardi esco da qui vado dal medico e domani gliela porto no 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 mi dispiace ma veramente domani vengo qui e gliela porto poi magari neanche lo do alla bambina è più una cosa mia per stare tranquilla no guardi non posso proprio va bene e allora guardi mi dia anche qualcosa per il mal di testa che con tutti questi no è venuto anche a me anche a me vengono i mal di testa da no eh ah sì ma poi passa senta poi noi dovremmo andare insieme ascolta un gioco a a a a a a a a Grazie a tutti.